Avrei una domanda per l'allenatore del Ciasfolo Roberto De Zerbi, che io ammiro moltissimo e penso che sarà l'allenatore del futuro anche italiano e che comunque farà molto bene anche probabilmente in grandi squadre. Io spero che diventi grande il Ciasfolo con lui. Però ho questo dubbio. Come mai in tutto questo campionato non è riuscito a far giocare due volte la stessa squadra? Questa è una cosa che non va bene. Poi soprattutto in queste ultime tre partite bisogna che giochino sempre gli stessi giocatori, almeno per provare quanto valiamo. Non si possono cambiare quattro, cinque giocatori ogni partita. Si cambia squadra. Io vorrei che lui capisse chi sono gli undici titolari e poi con dei piccoli innesti in base all'avversario, in base alle condizioni fisiche e alle squalifiche. Però non dei cambiamenti così radicali, cioè delle squadre completamente sconvolti. Questa cosa qua ne ha lasciato un e poi mai si muove in questa maniera. Grazie, arrivederci.